È l'assessore provinciale alla protezione civile Tiziano Mellarini a confermare che sotto il Brione non si può fare altro che erigere il Vallo Tomo, quale protezione dalle frane. Lo studio geomeccanico del versante orientale e settentrionale del Brione dall'Infano alla Grotta, commissionato dal Comune di Arco e propedeutico alle attività di progettazione delle opere di difesa, contiene le valutazioni circa il tipo di opera di difesa da adottare in relazione ad altezzi di volo ed energie all'impatto di eventuali massi. La tipologia di opera indicata è il Vallo Tomo, integrato per brevi tratti da barriere paramassi. Il Vallo Tomo rimane certamente una soluzione progettuale tecnicamente appropriata in presenza di importanti volumetrie a rischio di crollo. Questo è quanto scrive l'assessore Mellarini in risposta ad un'interrogazione del consigliere della Civica Trentina Claudio Civettini. L'assessore ricorda che la competenza diretta è del Comune di Arco e dice per quanto concerne la difesa degli agglomerati urbani e che la Giunta Betta ha affidato ad un gruppo di professionisti il compito di predisporre un progetto definitivo delle opere di difesa. I progettisti, scrive ancora Mellarini, in accordo con l'amministrazione comunale ed anche con i tecnici provinciali hanno effettuato tutta una serie di simulazioni circa le possibili cadute massi concludendo sulla necessità di realizzare opere di difesa passiva, appunto il Vallo Tomo stante le caratteristiche geomorfologiche del sito e le dimensioni ragguardevoli dei blocchi soprastanti. Grazie a tutti.